Trentino, Val di Sole, Folgarida vero gioiello per chi ama lo sci e la montagna, questa bellissima porzione di Villa Imanusarda ai margini delle piste è una soluzione con caratteristiche esclusive. La casa è collocata ai margini della pista rossa che dai monti alti scende a Folgarida, in posizione molto soleggiata e panoramica. Dal balcone che si affaccia verso Madonna di Campiglio si vedono le Dolomiti, mentre da quello che si affaccia a valle si vedono le montagne intorno a Di Maro e Malè. L'aspetto eclatante sta nel fatto che è possibile arrivare fin sulla porta di casa con gli sci ed estate ci si trova praticamente già nel bosco. L'appartamento è stato realizzato curando i minimi particolari ed è sempre stato utilizzato dal proprietario, mai dato in locazione. I pavimenti sono in larice, le coperture delle pareti interne sono in abete, i mobili sono stati realizzati su misura. La casa dispone di due bagni, uno più piccolo con box doccia e uno più grande con vasca, una stanza matrimoniale e una stanza con due letti singoli, la zona giorno con balcone, divano, zona pranzo e cucina. Fanno parte della proprietà anche un posto auto in garage e una cantina deposito. L'appartamento è termoautonomo con caldaia GPL. L'eventuale compravendita avviene tra privati, per cui l'acquirente può fruire della formula del prezzo-valore, ovvero pagare le tasse sul valore catastale dell'immobile, con un notevole contenimento dei costi sotto il profilo fiscale. Vi ricordiamo che al prezzo indicato andranno aggiunti altri costi rappresentati da tasse, oneri notarili e provvigioni agenzia mentre andrà a detratto l'eventuale sconto ottenibile in sede di trattativa. Gli amanti della montagna, della roccia, del mountain bike, delle escursioni.